Chiara, per favore, non ho capito bene, sei stato denunciato per aggressione? Che vuol dire? Per l'indagine sull'omicidio di mia moglie. Ho incontrato l'uomo che stava con lei quella sera. E ha fatto una cazzata. Sono io che ho fatto una cazzata con te. Non ti ho mai chiesto niente, ti ho sempre rispettato. E immagino che tu stia soffrendo, però questa volta hai superato il limite. Non so che cosa vuoi fare del tuo futuro, però ti consiglio di pensare e di scegliere molto bene le parole che stai per dire. E allora le sceglierò bene. Odio le prediche, le professorine, quelle che sanno tutto e quelle che non capiscono il cazzo. Sto cercando di aiutarti. E come lo fai così? Ti sto chiedendo aiuto. Ho bisogno di un avvocato. Quindi mi stai chiedendo di difenderti? Voglio che tu mi difenda, sì. Sei l'unica persona di cui mi fido. Lo farai. No. 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 Grazie a tutti